Tante volte in questi giorni ci siamo chiesti quale fosse il segreto di questo Bayern Leverkusen Ecco, credo che lo stiate sentendo anche voi in sottofondo Leverkusen in questo momento sta svolgendo un torello Un allenamento abbastanza semplice e tranquillo, insomma, niente di particolare Ma lo sta facendo a un'intensità incredibile con Ciabia Alonso che non sta zitto un secondo Ecco, i segreti di questa squadra, 51 partite senza mai perdere Insomma, è iniziato in un record europeo tra l'altro Da inizio stagione si porta avanti questa squadra Questa cosa di non riuscire a perdere Anche quando è sull'ordo di perdere o magari a volte di non vincere Riesce comunque a segnare 22 gol e li ha segnati dopo l'86esimo quest'anno E come dicevamo poi, insomma, 43 vittorie, 8 pareggi, 51 partite Insomma, sono veramente numeri incredibili Che dire, fa veramente impressione vedere di allenare Vedremo se domani sera in campo riusciranno a replicare quello che hanno fatto In molti momenti dell'anno mettendo in difficoltà un'Atalanta Che comunque vuole giocarsela a viso aperto Molta tranquillità, si è letta anche in conferenza stampa Nelle facce, nell'espressione dei giocatori dell'Everkusen Più che tranquillità, però forse consapevolezza è il termine giusto Quella che chiaramente hai come è normale che sia Come la fiducia dopo che non perdi per 51 partite in una sola stagione Come la fiducia dopo che non perdi per 51 partite in una sola stagione